Duro colpo la criminalità organizzata e al traffico di sostante stupefacenti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Indagini serrate hanno portato i militari ad effettuare un blitz in una villetta di Castelvolturno. A finire manete due incensurate apparentemente insospettabili, madre e figlia di 65 e 49 anni. I carabinieri dopo diverse ore di ricerca hanno rinvenuto, in più parti dell'abitazione, 560 kg di hashish. La droga, suddivisa in panetti, nella vendita al dettaglio, avrebbe fruttato un profitto pari a non meno di 3 milioni di euro. L'hashish era stata nascosta all'interno di bustoni di plastica con chiusura lampo, ma questo non ha evitato che la casa fosse pervasa dal forte odore. Le due donne originari di Napoli, ma domiciliate nella provincia casertana, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Pozzuoli.